Presso il Centro Conferenze Conrad Adenauer di Gerusalemme si è tenuta una conferenza internazionale in memoria di Papa Giovanni XXIII, a 50 anni dalla morte avvenuta il 3 giugno 1963. Perché una conferenza a Gerusalemme? Per i meriti acquisiti da Papa Giovanni presso il mondo ebraico, quando nel 1959 decretò di eliminare dalle preghiere universali del Venerdì Santo l'espressione in uso che diceva «perfidi ebrei». L'occasione è propizia per allargare la riflessione sulle relazioni tra Chiesa, ebraismo e Stato di Israele, con il quale sono in corso da lungo tempo trattative per arrivare ad un concordato. Per questo erano presenti i cardinali Turkston e Koch, il Patriarca Fuetual, il Nuncio Apostolico e famosi esperti come il Direttore Internazionale di Affari Interreligiosi David Rosen, il Professore di Venezia Amos Luzzatto o il Dottor Paolo Zanin dell'Università di Milano. Papa Aroncalli di Medio Oriente se ne intendeva e ne conosceva le problematiche. Gode qui di una grande estima non semplicemente per essere il Papa buono, ma per la sua lungimiranza e decisione nell'instaurare rapporti nuovi con le varie realtà, sia musulmana che ebraica. Una delle grandi personalità del ventesimo secolo, per ciò che ha fatto durante l'Olocausto e per il suo impegno di portare i rappresentanti di Israele in Vaticano. L'incontro di oggi è in memoria di un fatto accaduto 50 anni fa, ma segna una tappa di un cammino che poi è continuato. Tutto il dialogo ebraico-cristiano è nato in modo nuovo con Giovanni XXIII e il suo profondo amore per il popolo ebraico. Fu lui che nel 1959 con una decisione per certi aspetti in attesa aveva voluto eliminare l'aggettivo perfidi nella preghiera che si fa per i giudei, per gli ebrei. E questo aveva sorpreso un po' tutti, tanto che da questo nacque l'incontro con Jules Isaac, lo scrittore ebreo di lingua francese che tanto ha contribuito al rapporto fra Israele e la Chiesa. Ma da quel momento il dialogo ebraico-cristiano sempre più è stato scoperto come una componente profonda del nostro essere discepoli di Gesù, che come dice il direttorio per le relazioni con l'ebraismo è ebreo ed ebreo per sempre. Allora amare Gesù significa anche amare Israele. Questi giorni hanno dimostrato come la primavera del concilio, l'opera di Giovanni Paolo II continuata dai suoi successori, sia ancora viva e feconda e comincia a produrre frutti che, auguriamoci, siano sempre più frutti di speranza e di pace per Israele, per la Chiesa e per l'umanità intera. Il provvedimento attuato da Giovanni XXIII e il documento conciliare e nostre tate più volte citato dai relatori segnano davvero un cambio epocale nella relazione con il mondo ebraico? Decisamente c'è stato un cambiamento incredibile. La domanda, piuttosto, sarebbe come il cambiamento si sia tradotto nella realtà e in modo così particolarmente significativo. Io insegno religione cristiana a studenti ebrei. Cerco di aumentare la consapevolezza negli ebrei dell'effettività di questa nuova direzione, perché il problema fondamentale è che la gente tende a pensare che nulla sia cambiato e per questo motivo perpetua i suoi stereotipi nei confronti dell'altro. Dunque, se lei mi chiede se vi sia davvero un cambio radicale, rispondo di sì e anche straordinario. Ci si potrebbe invece domandare quante persone siano realmente consapevoli della novità che si è prodotta. Da parte del popolo ebraico, molti se ne rendono conto. Non parlo dell'intero mondo ebraico, ma sarebbe una domanda da rivolgere anche al popolo cristiano, alle persone comuni, non a quelle che partecipano a questa conferenza. Questa sarebbe la vera sfida, perché più persone se ne potrebbero rendere conto, perché il cambiamento c'è, senza alcun dubbio. Qui sul territorio in questi anni si vede un miglioramento nei rapporti, nella vita concreta tra cristiani ed ebrei, tra chiesa e Stato di Israele. Io penso di sì. Veramente oggi la situazione è molto migliore di quanto lo era 30 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa. Oggi c'è un dialogo a tutti i livelli. Oggi c'è un riconoscimento mutuo. Oggi c'è anche una buona collaborazione, almeno in Terra Santa, e potrei dire anche nella maggior parte dei paesi del mondo, tra le religioni e in modo particolare tra la Chiesa, l'Islam e l'ebraismo.